benvenuti benvenuti cari amici siamo inviti a questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il botone like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale telegram oggi andiamo a parlare di shiba inu, di dogecoin ma non solo anche dei meme coin in generale e vorrei sapere da voi quale secondo voi è la nuova shiba inu quale secondo voi sarà il meme coin che potrebbe fare veramente rendimenti devastanti e vediamo che il primo meme in assoluto è dogecoin con la capitalizzazione di 35 miliardi al secondo posto shiba inu con 31.6 miliardi piccola precisazione ricordiamolo shiba inu non è un meme coin visto quello che si sta costruendo nft addirittura un progetto ok di defi se vuoi dar vita e anche la blockchain attraverso lo shiborio tutte le altre come vedete ne abbiamo anche parlato ad esempio di doge no mars di katecoin che tra l'altro stanno facendo rendimenti molto importanti e per cui fatemi sapere anche voi nei commenti qual è la vostra meme coin preferito è in riferimento proprio a shiba guardate qui nft si darà vita al swap abbiamo lo shiba swap quindi abbiamo veramente di tutto e soprattutto arriverà anche la defi che quindi qualcosa di assurdo e pazzesco vorrei vedere con voi anche la action di dogecoin al momento siamo a 26 centesimi ricordo pensate dai massimi manca addirittura un più bel 180 per cento vedremo se in questa fase ok da buran dogecoin potrebbe anche ritornare qui attenzione in particolare se andrà a superare questa resistenza sostanziale dei 0 27 9 quindi 0 28 dal mio punto di vista dogecoin potrebbe tornare fortemente bullish successivamente avrà una resistenza 0 35 e se dovesse passarla secondo me dogecoin si avvierà verso i massimi ma so che le aspettate con terpidazione perché soprattutto per chi è un trader ok shiba inu offre veramente tantissimo gain anche se abbiamo visto come nella corsa della storia chi ha holdato ok shiba inu si è fatto i denari in questo momento shiba inu si mette in quest'altra line discendente ok tra le trovo anche brutte notizie da darvi per quanto riguarda shiba potrebbero essere brutte potrebbero essere belle dipende da come vengono interpretate però ora sembra che shiba diciamo voglia andare a prendere sostanzialmente i 0 46 ok questa è un po la miglia però dopo vedremo quello che sarà un altro supporto che potrebbe essere violato cioè quello dei 3.560 vedremo se arriveremo a questi livelli per ora piccola attenzione su questo supporto che secondo me sarà a 4.700 naturalmente dovessimo rompere questa trend line discendente in breve periodo shiba potrebbe tornare fortemente bullish la notizia che a me non piace sostanzialmente è questa perché crypto.com ok è dato via il 2 per cento dei propri shib binance sta tenendo sostanzialmente invariato il numero vedremo ok se sia crypto che binance andranno a giocarsi sostanzialmente un po con shib però l'azione ok non sembra così diciamo che ci renda felici ok in questo momento noi holders di shiba inu per cui andiamo a vedere un importante ok curiosità perché c'è una sostanzialmente un magazziniere o chi è andato in pensione grazie shiba inu lui mi ha investito 8 mila dollari ed è arrivato a più di un milione di dollari con shib per cui le mie più sentite congratulazioni lui ha venduto e gli è andata decisamente bene ora andiamo a vedere qualche altro token di cui avevo parlato e come sta andando la sua azione abbiamo rioshi vision pensate insomma da quando avevo parlato in queste zone qui a 1 7 ora siamo a sostanzialmente 9 mila e passa per cui rioshi vision che addirittura è arrivato sopra i 10 mila e magari molti di voi si chiederanno ma come samubit riesce a trovare i meme naturalmente c'è il trucco però non ve lo posso dire in maniera diciamo così semplice perché non è assolutamente semplice però dovete indagare indagare tantissimo tra l'altro rioshi vision coin del creatore shitoshi kusama naturalmente non sono né consigli finanziari né consigli trading io vi illustro le coin di cui avevo parlato tempo fa altra coin saitama inu il momento che conoscono siamo addirittura arrivati a 86.526 anche di questa coin ne avevo parlato in queste zone qui quindi ottimo il gain per chi si è preso saitama inu naturalmente gira su ethereum per cui i costi delle fees su uniswap sono molto ma molto alti altra coin che molti conoscono è mononokinu che era arrivato a 600 bel dump a 300 e ora siamo sostanzialmente a 352 anche in questo caso siamo in forte game perché l'entrata durante il video era di 125 per cui attenzione ora perché dovrebbero dar vita al gioco a dicembre non so come andrà a finire però altra notizia molto importante è che è arrivato anche questo listing su l bank per cui non è un grande exchange però già che mononokinu passa da uniswap ad un altro exchange potrebbe essere molto ma molto interessante infine e qui c'è stato veramente rendimenti molto ma molto importanti katecoin che tra l'altro gira su binance smart chain io vi dico la verità l'ho data via ok sostanzialmente in parabolica sui 400 e quindi in effetti se rimanevo old che ci guadagnavo però dal mio punto di vista questi meme comunque sono pura speculazione ok io ho entrato addirittura a settembre quindi queste zone e mi sono fatto un bel 40x per cui è andato molto ma molto bene ora vorrei darvi non una lezione di vita però un consiglio che secondo me vi dà maggiori probabilità di fare gain in questi casi quando vedete queste salite paraboliche assolutamente non ci dovete entrare quando vedete la calma piatta le lateralizzazioni per mesi non dico che dovete entrare però secondo me è un momento molto più opportuno ok per fare delle entrate se naturalmente credete nella coin credete nel progetto ora vorrei farvi un piccolo regalino da parte mia vorrei mostrarvi torum non so se ve lo ricordate l'avevo recensito quest'estate io finora sono riuscito a guadagnare pensate 1000 dollari ok semplicemente pubblicando i miei post funziona sostanzialmente un po come facebook vedete io pubblico e sostanzialmente poi si hanno delle missioni da fare con i quali si guadagna parte del token al momento il token non può essere swappato ok ancora su su pancake swap perché gira su rette binance marchene però come avete visto quei 1000 dollari un giorno prima o poi ritengo che potrò swapparli e vi dico che inoltre il token oggi ha preso il 150 per cento naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro è il gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di stugge il bottone like di iscrivervi canale e ci rivediamo presto ciao